bella ragazzi di questo nuovissimo video oggi siamo qua perché sono un bel po che non carico video e sono veramente un bravissimo ragazzo signore però non ho potuto ricaricare appunto qualche settimana il video perché appunto è successo un incidente quindi esatto perché mi sono slogato la caviglia e quindi niente non usciranno video per un po però penso che verso dicembre e per le vacanze di Natale penso che comunque usciranno molti video io li sto preparando però purtroppo non li posso ancora far uscire perché appunto non ho molta linea quindi non posso farli uscire sono appunto in campagna e quindi niente vabbè questo era solo un video aggiornamento su quello che è il perché non ho caricato video per le ultime settimane vabbè noi ci vediamo verso i primi di ricembre con i nuovi video noi ci vediamo e bella ragazzi ciao